Agnese Monferrà, Il Santuario di Barbana, l'ultima pubblicazione per le espressioni di marca aperta. Come nasce questo libro che non vuole essere una guida turistica ma magari un compendio per conoscere meglio questa parte di storia locale? Il libro nasce da una tesi di laurea, della mia tesi di laurea, discussa nel marzo del 2016 presso l'Università degli Studi di Udine. Una tesi di laurea magistrale per il corso di laurea in storia dell'arte e conservazione dei beni artistici e architettonici. Con la mia relatrice, la professoressa Giuseppina Perusini di Restauro, abbiamo scelto di approfondire il primo ventennio della chiesa di Barbana, quindi la sua ricostruzione. Abbiamo deciso di approfondire un bene architettonico locale, di dare importanza a un bene architettonico locale, gradese, anche perché non venivano pubblicati libri o approfondimenti storici, artistici o comunque con un'impostazione scientifica da una settantina d'anni. L'unica pubblicazione completa risale agli anni 50 del 900 per opera di padre Vittorino Meneghin. E da qui nasce appunto questa pubblicazione che vuole essere appunto un accompagnamento nella visita appunto alla chiesa del santuario di Barbana. Possiamo dire che si dividono i lavori in due parti. La prima parte è prima della Prima Guerra Mondiale. I lavori iniziano nel 1911 e si concludono prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1914. E riguardano la parte anteriore della chiesa, in stile romanico, rivisitato per opera dell'architetto Baric di Gorizia, Silvano Baric di Gorizia, con delle rivisitazioni dell'impresario edile d'Agostinis. E la seconda parte, quindi dal transetto e la zona psidale, realizzati negli anni 20, a partire dal 1922, per protarsi con il campanile fino al 1928, in uno stile rivisitato barocco. Sempre per opera dell'architetto Baric. Allontanato in un primo momento, viene richiamato a Barbana dall'arcivescovo di Gorizia, Borgia Sedei, del quale era insomma consulente architettonico.